C'è il cliente con semplicità, così come una mamma fa con i propri figli. Noi contiamo molto sulle materie prime e nella complementarietà degli ingredienti, come si adattano uno all'altro. Certo, sicuramente che l'occhio vuole la sua parte, ma non è quello l'elemento caratterizzante di un dolce, è il gusto, il palato e il giudice. Moretti interpreta i punti di forza di un locale utilizzando materie prime di qualità. È in sintonia con quella che è la nostra filosofia lavorativa. Abbiamo scelto Moretti perché la storia di Moretti rispecchia esattamente la nostra storia. La relazione è nata sin dal 1985 e proprio per questa fiducia che caratterizza il nostro rapporto e l'operato di Moretti abbiamo deciso di operare il nuovo restyling affidandoci a loro. Hanno saputo interpretare le nostre emozioni e capire qual era l'anima di questo locale. Un locale che ha una storia e doveva essere rappresentata in modo attuale. Se dovessimo descrivere l'azienda Moretti con tre parole userei sobrietà, equilibrio e capacità interpretativa. Grazie a tutti.